Cercate l'Europa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Altro argomento caldo di questo inizio estate, la carenza idrica diminuisce la portata delle falde acquifere. Per mancanza di pioggia, rubinetti a secco in molti centri calabresi, incarnato dice, sorgenti ridotte oltre il 20%, è necessario evitare gli sprechi. Vediamo. Carenza idrica in molti centri della Calabria, rubinetti a secco e inevitabili disagi per i cittadini. Ma cosa sta accadendo? Secondo il commissario liquidatore di Solical sono diversi i fattori ad iniziare dalla siccità. Le falde stanno registrando una risoluzione annua del 15-20%, non nevica più, non può più acqua come una volta, quindi è troppo calza del clima, quindi abbiamo un problema di invasi. C'è innanzitutto una necessità che i sindaci attivino subito nei confronti dei cittadini un allarme di villuso razionale dell'acqua, perché questo è fondamentale. La causa principale dunque è l'assenza di piogge che determina un calo fisiologico delle sorgenti. Bisogna dunque evitare gli sprechi e non solo. Il sistema è interamente indeso, non ha avuto mai una sorganizzazione, né di grande adduzione né di distribuzione dell'acqua, quindi abbiamo un corto circuito tra la fornitura e la distribuzione. Noi a volte forniamo molta acqua ai comuni e purtroppo i comuni non riescono ad utilizzarla in maniera regolare, quindi c'è un uso abuso dell'acqua e in alcune aree manca. Per cui c'è un disequilibrio che in qualche modo oggi si registra. Devo dire che dal 2010 in poi, purtroppo, sono state fatte scelte sbagliate, perché non c'è stata una programmazione che puntasse a questi investimenti. Vedi l'Alaco, per esempio, sulla zona del Vibonese, la diga del Menda, che abbiamo ripreso con Oliverio e spero sia in quest'anno completata, e la diga dell'Esero, io cito un esempio per tutti, la diga dell'Esero era un'opera già pronta a essere fatta un progetto di sbarramento dalla parte bassa. Lì buttiamo due metri cubi al secondo. Per dare un'idea ai cittadini calabresi, due metri cubi al secondo significa fornire acqua per 700.000 abitanti. E' un peccato. Noi non abbiamo acqua a Cosenza, non abbiamo acqua a Mendicino, a Cassolibro, abbiamo altri raddoppi da poco dalla Batemarco. C'è tutto un problema di infrastrutture. La Calabria è ricca di acqua, però mancano le infrastrutture che, purtroppo, la Cassa per il Mezzogiorno, 50-60 anni fa, ha realizzato. Con un tessuto, come dire, abitativo diverso da quello di oggi. Poi c'è stata una crescita demografica, un'espansione dei territori, quindi diciamo che quel programma non è più adatto ai tempi di oggi. Quindi va rimpinguato con finanziamenti pubblici, perché la città pubblica, che io perseguo da tempo insieme a Don Oliverio, dovrà poi quella realizzare i grandi programmi e portare l'acqua ai cittadini, quindi facendo pagare anche qui l'acqua ai cittadini, che senza il pagamento della tariffa non ci sono investimenti, e quindi non si può realizzare il progetto ambizioso che abbiamo in mente di fare.